Gentili telespettatori, buona giornata. Arriva una risposta dall'Ungheria sul caso Salis e denunciano la sorprendente intromissione dell'Italia nella vicenda giudiziaria. Dicono che nessuna richiesta diretta da parte del governo italiano a quella ungherese renderà più semplice difendere la causa di Salis, perché il nostro governo, come in qualsiasi altra democrazia moderna, e poi democrazia moderna, mi si sono rizzati i capelli, non ha alcun controllo sui tribunali e qui ho proprio i capelli dritti in testa. Allora, ufficialmente l'Ungheria è una democrazia, ufficialmente la magistratura ungherese è autonoma, ufficialmente, perché in Europa non ci sono dittature e la magistratura è indipendente in ogni paese. Ma questa democrazia moderna ungherese non mi sembra proprio. Lo stesso Orban dice che questo è un paese illiberale, non liberale, illiberale. informatevi cosa vuol dire, ecco, quindi lo dice lui stesso, lo dice lui stesso, scusate se poco, scusate. E poi, la magistratura è indipendente. In Ungheria dicono che nella magistratura non si muove nulla senza che Orban dica o d'ordini. Il capo della magistratura è un amico fraterno di Orban e dicono, come vi dicevo, che se un processo si apre o si chiude lo decide il governo. A voi questa sembra una moderna democrazia con la magistratura autonoma? Ho qualche dubbio, se mi permettete, qualche leggerissimo dubbio. Allora, quindi sono sorpresi dell'intromissione dell'Italia nella vicenda giudiziaria. Qual è l'intromissione dell'Italia? Il governo in questi giorni non ha detto mezza parola. La Meloni, i ministri e i politici di centrodestra e del governo hanno avuto l'ordine perentorio. Nessuno parli di questo caso. Perché? Perché nessuno parli di questo caso? Perché la Meloni sta lavorando nell'ombra? Oppure perché siamo vicini alle elezioni europee e questo caso può danneggiare la propaganda elettorale? Quindi, qual è la realtà? Il governo non dice una parola. La Meloni non ha detto niente, né una virgola. Perché sta lavorando nell'ombra? O perché non vuole che si parli perché è contro la propaganda governativa per le elezioni europee? A voi. La risposta. Però la maggior parte di voi sono tifosi e il tifoso è automatico che risponde sta lavorando per liberare la Salis. Questo risponde il tifoso di solito, cioè di solito, sempre. Andiamo avanti. Alla fine di febbraio il ministro degli esteri, con un nome impronunciabile, diceva spero che questa signora riceva la meritata punizione in Ungheria. Aveva detto a Roma dopo un incontro col collega Tajani. Anche se chiariscono fonti diplomatiche, non è l'azione della Farnesina o la recente telefonata del Presidente della Repubblica, ai genitori di Salis a irritare Budapest. Budapest è irritato con il Partito Democratico, con la sinistra. Stato governato dall'estrema destra, che ha instaurato una sorta di democratura, una sorta di dittatura elettorale, chiamiamola così. Quindi immaginatevi che questo è un paese di estrema destra, che adesso vede la sinistra italiana che si intromette. E questi hanno il fumi negli occhi, perché per uno stato di estrema destra la sinistra è il nemico numero uno. E una donna come la Salis è assolutamente il nemico numero uno. Però io mi chiedo, e vi chiedo, ma questi ungheresi ce l'hanno le prove? Allora, voi sapete che una volta in Italia c'era il carcere preventivo. Ti metto in galera e poi faccio il processo dopo. In Italia non c'è più il carcere preventivo. Cioè prima mi processi e poi mi metti in carcere. Questo vuol dire democrazia, non quelli che si vantano di essere delle democrazie moderne che non sanno neanche di quello che stanno parlando. Allora, dato che in Ungheria siamo come nell'Italia degli anni 70, catene, carcere preventivo. Vi ricordate quel film di Alberto Sordi, Detenuto in attesa di processo. Io l'ho visto qualche tempo fa, questo film, bello, mi è piaciuto, anche perché a me piace molto Alberto Sordi. Sto cercando di guardare un po' tutti i film che trovo. Detenuto in attesa di giudizio vi fa vedere proprio il carcere italiano, gli anni 70. Catene, diritti quasi zero, posti con mancanza di igiene e dir poco. Guardatevi i film, fanno vedere un bagno che era una cosa che non riuscirei neanche a descrivere dettagliatamente, neanche superficialmente. Quindi le carceri nostre erano peggio di quelle ungheresi di adesso. Catene ai polsi, catene ai piedi, dove avevi proprio la palla, andavano in giro con la palla al piede, con la palla al piede, e igiene zero, diritti zero e carcere preventivo. Quindi oggi noi ci stupiamo del carcere ungherese, ma il carcere ungherese come quello nostro negli anni 70-80. Anche Enzo Tortora era in catene, in tribunale se non sbaglio, in manette. Ecco, quindi oggi noi ci scandalizziamo, ma la nostra bella Italia era così poco tempo fa, attenzione, oggi facciamo quelli che si scandalizzano. Comunque adesso vedremo quello che succederà. Ormai è diventata una sfida per quello che la situazione si è incancrenita. Ovviamente immaginatevi un estremista di sinistra accusata da un governo estremista di destra. L'unica via d'uscita per questa donna è quella della candidatura nel PD alle europee. L'unica, non ce ne sono altre secondo me. Credo che la Meloni non ci possa fare ormai più nulla. Grazie a tutti e arrivederci a presto.